I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, collaborati in fase esecutiva dai militari dei reparti specializzati nel nucleo cinofili di Vibo Valencia, dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, oltre che delle compagnie dei carabinieri di Empoli, Rende e Villa San Giovanni, hanno eseguito sette ordinanze di misura cautelare emesse dall'ufficio del giudice delle indagini preliminari di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, nei confronti di altrettanti cittadini di origine centraficana. Variamente accusati di plurimi episodi di cessione, offerte in vendita, contrattazione e trasporto di droga. L'operazione di polizia giudiziaria si inquadra in un'attenta attività di contrasto, possene essere dai militari dell'arma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Fenomeno sempre più fiorente nei centri abitati di Rosarno e San Ferdinando e presso la tendopoli ministeriale. Nel corso dell'attività investigativa, attraverso intercettazioni, pedinamenti e riscontri, sono stati raccolti gravi indizi nei confronti di diversi cittadini extracomunitari, dimoranti alcuni a Rosarno, altri fuori provincia e uno fuori regione, tratto in arresto a Firenze. Nello specifico, l'attività di indagine condotta dai militari della compagnia di Gioia Tauro risale al 2020 e ha consentito nelle varie fasi di ipotizzare allo stato degli atti l'esistenza di numerose cessioni e sostanze stupefacenti da parte dei soggetti centrafricani, alcuni all'epoca domiciliati nella tendopoli ministeriale. Sulla base degli elementi di prova raccolti, secondo l'ipotesi d'accusa posta dal GIP di Palmi, si ritiene che gli stessi gestissero una ricca attività di detenzione e smercio di stupefacenti, non limitata soltanto alle località di San Ferdinando e Rosarno. In alcuni casi, infatti, le indagini svolte hanno portato ad ipotizzare che la sostanza stupefacente fosse destinata ad acquirenti risedenti in altre zone d'Italia, tra le quali la Toscana. Nel corso del riscontro sono state tratti in arresto e in flagranze di reato sei persone e due sono state deferite in stato di libertà. Sono stati inoltre complessivamente rinvenuti e sequestrati 8,6 kg di marijuana, 8 g di cocaina, 90 di sostanze da taglio, una piantagione con 82 piante di marijuana. Da ultimo sono stati anche sequestrati 18.000 euro ritenuti di provenienza illecita.